Questo è un piano molto importante perché raccoglie le iniziative e le proposte della pubblica amministrazione italiana per portare avanti l'agenda dell'apertura, della trasparenza, della partecipazione, delle competenze digitali, dell'innovazione nel campo dei servizi digitali. Si tratta di un piano che viene esposto in bozza per un periodo di 45 giorni. La consultazione durerà fino alla fine del mese di aprile e vuole raccogliere sostanzialmente tutte le idee, tutte le proposte, tutti i suggerimenti che verranno da chi parteciperà alla consultazione cittadini, imprese, associazioni della società civile, anche pubblici dipendenti che vorranno dare un feedback al Dipartimento della Funzione Pubblica in primis ma soprattutto alle amministrazioni che hanno proposto delle azioni sulla bontà delle proposte per eventualmente anche correggerle, aggiustarle o cercare di ampliarle. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!